Comunque c'è una cosa. Allora, capitano, dovete prendersi a fare il compagno, ma dopo vi farò vedere tutte le cose, vabbè, dovete. A casa perché si va più, poi basta che domenica apriamo la gente che è in fresca. Basta aprire le domeniche. Poi non posso. Poi non so se usciamo un'anduria. C'è le pioste, sì. Perché non li faccio. Ma stai facendo i video, stai facendo i video tutorial so sa fare. Qualcuno mi dà una mano. Che cosa facciamo? Dai fammelo. Fammelo, fammelo che sto recissando. Che stai recissando? Stai facendo questa cosa, la voglio tutta la sua quantità. Niente, ora fammelo. Fammelo. Non mi devo mettere, scusate, dire che mi devo mettere. Fammelo. No, scende, ma perché scende? A te scende. Non capisco, allora c'è qualcosa che non va. Non lo sai fare? Forse no. Aspetta. Allora sì, secondo me, prima è diverso il meccanismo, aspetta. Come è diverso il meccanismo? Allora, andiamo a vedere. Fammelo mezzo a correre. Non è diverso il meccanismo, guardami lo tutorial. Allora, prima si scende verso il basso, no? Sì, prima si fa così, guarda. Eh, e poi si scende verso l'alto. Prima si scende verso il basso, poi si scende verso l'alto. Non è vero. Non c'è il meccanismo. Il meccanismo è questo, guarda. Ma qua c'è scritto come ti fa, guarda. L'ho scritto d'oro. Non è riguardo. Vedi, uno, fai una cosa e mi infila tutti i capelli. C'è scritto come prima, c'è scritto qua. Aspetta un attimo, dai. Aspetta un attimo, quali gli sei? Non è non lo puoi fare. Ti può muovere il soldato. Aspetta. Dai, segui il tutorial. Eh, aspetta. Le ho leggi. E là, e non è che si vede bene. Non lo so. Allora. Cignone anni trenta. La banana. Cosa vuoi fare? Lo farò cignone anni trenta? La banana. Cignone clasco. Cignone sbarazzino. Mezza cosa. Che vuoi fare? Ogni cosa è diverso. Fammi lo scignone clasco. L'astro. Allora, vediamo. Abbiamo leggi. Come ti fa? Allora, uno. Arrotolare la fascia e chiudere bene lo scignone. Ma questa è la fase una? No, la fase una è che lo scignone clasco lo facterà qui. Ah, infatti. Questa è la fase uno. Allora, fare una coda ed infilare... Ah, bisogna fare una coda. Ah, ecco. Fare una coda e infilare i capelli. Ok. Poi? Abbassarlo e rotolarlo. Eh. Abbassarli... E rotolarlo. Vesto... Vesto di me. Quasi alle pu. No, abbassarlo tutto, abbassalo. Eh. Ah, sì, 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 hai ragione, così, sì. Poi vi rotolarlo sopra. Verso il sopra, no? Sì. I capelli. Io lo so. Poi? Arriva e metti un punto. Eh, ok, aspetta, se si ha ragione, però sono andato troppo in alto. Forse vuoi scendere più giù? Sì, forse. Aspetta, scendere più giù? No, così. Così. E poi che si fa? Ah, poi devo stringere. No, così? Devi cercare di stringerlo. Eh, lo so, sto cercando di stringerlo. No, devi fare i nodini così. Eh, e poi ti fa il nodo, capito? Vabbè, ma io devo vedere fino a dove te non ti fa male. Cade. Cade. Cade perché forse va stretto prima un pochettino di più, capito? Va stretto prima, un po' più bello. No, vedi, vedi che è venuta la fettinatura. Però quello basso è venuto. Se lo vuoi più in alto, secondo me, ti dobbiamo tirare più su. Devi tirare più su. Provo a farmi ne mezzo. Aspetta, provo a farti... Aspetta. In genere, questi video fanno like, in genere. Aspetta, ora è persimente a quello, però... Ah, ma io... Ah! Spera, spera. Si è incassolato nelle mie capelli. Ci vuoi figurire a me? Aspetta, aspetta. Ah. Nuo con le cuore. Mezza coda. Aspetta, allora, mezza coda. Il caldino si chiama questo. Allora, mezza coda, come si fa la mezza coda? Si prende una ciocchetta di capelli, no? Ma quello sotto altro metà. Ah. Ok. Poi si infila questo dentro. Non c'è tutto il cuore che è pello. E si va tutto fino al giù, vero? Si. Così. No, così. Si. Poi si arrotola. Si. Eh no, aspetta che l'ho perso. Devi infilarlo dentro così. Dove fanno? Si è emozionata che sei di YouTube? Si, è emozionatissima. Aspetta, però l'abbiamo perso, aspetta. Aspetta che l'ho perso. Ho perso. E no, ma aspetta, ma non si fa lo stesso precedimento della coda alta? Si. Eh, allora, così. E mo' si prova a salire sopra. Si. Poi si tira, però abbiamo tirati male, perché... No, scende lo stesso. Non capisco come si scende. Ognuno guarda su YouTube. Tutta.